Io sono una farmacista da più di 30 anni ed è da più di 30 anni che ho sempre vissuto e lavorato in una farmacia di tipo tradizionale. Questo mi ha creato per tanti anni un certo disagio, quindi abbiamo deciso con mia sorella di creare una realtà completamente diversa. Io e mia sorella siamo molto legate a questo territorio, a questa città, la città di Spartaco, e abbiamo creato tra l'altro questa struttura proprio nei pressi dell'anfiteatro e abbiamo voluto dare un segno, un segno forte e anche di rinascita. Il nostro obiettivo principale era quello di fare in maniera che il cliente potesse sostare maggiormente in farmacia, non un cliente mordi e fuggi, ma un cliente che potesse essere interessato ai prodotti che vendiamo, ma anche a quello che è pulcro del nostro lavoro e quindi la consulenza. Nel momento in cui abbiamo deciso di intraprendere questo percorso di cambiamento totale, ovviamente io mi volevo assolutamente distaccare da quello che era il format usuale di tutte le farmacie. Volevo un qualcosa di assolutamente dirompente e che soprattutto ci caratterizzasse e che fosse unico. Quello che io cercavo era un progetto architettonico che fosse studiato su misura come un abito sartoriale, che non dovesse essere sovrapponibile a nessun altro. La mia farmacia doveva essere unica nel suo genere. AMLAB è riuscita con questo progetto e soprattutto con la ricerca del particolare a rendere unico questo ambiente, a creare un'atmosfera quasi magica in cui si fondono perfettamente materiali, colori, ambientazione. Io consiglierei a tutti i miei colleghi AMLAB, loro sanno creare il vestito giusto per te, sanno interpretare i tuoi bisogni, i tuoi sentimenti, le tue esigenze, per far modo che tu attraverso questo progetto tu possa effettivamente comunicare i tuoi bisogni professionali, i tuoi sentimenti, le tue passioni lavorative e soprattutto dare una sensazione di benessere a chi entra nella tua farmacia.